Qual è l'augurio del Sindaco per questo Santo Natale ai Cosentini? L'augurio è quello di far passare ai Cosentini un Natale in serenità, soprattutto anche vivendo la città all'aperto, così come con gli eventi che noi abbiamo programmato, una città che adesso vive di socialità, quindi una socialità che si può respirare nelle piazze, nei corsi, nelle zone pedonali e quindi l'augurio è quello di stare veramente insieme, insieme nelle famiglie, insieme come cittadini, insieme in armonia, in serenità e di passare un Natale il più bello possibile. Lavoriamo perché questa regione più bella del mondo, questa città che è una delle più belle d'Italia, possano essere anche delle città ricche, dove le persone, i giovani soprattutto, possano restare e trovare una prospettiva e un futuro per vivere con un lavoro, creandosi una famiglia. E' un augurio particolare, lo faccio ai bambini, agli anziani, alle persone che hanno sbandaggi fisici e che sono ammalati in questo periodo e allora auguro veramente che queste malattie possano essere superate e che il Natale possa essere vissuto nella sua bellezza, che è proprio quella che è la caratteristica importante di questa festa. Salvatore Bruno per la CNews24 Salvatore Bruno per la CNews24